Domenica 20 settembre 2020. Mancano 102 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della Vergine. La chiesa ricorda San Giancarlo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giancarlo. Il nome è composto da Giovanni e Carlo e significa dono di Dio libero. Il numero porta fortuna è il 4, il colore è il giallo e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 20 settembre del 1870 le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione con il resto del paese e la fine del potere temporale dei papi. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 20 settembre ricordiamo l'attrice Sofia Loren, la cantante Loredana Bertè. La citazione del giorno. Non sempre chi sorride è felice. Ci sono lacrime nel cuore che non arrivano agli occhi. Jane Austen. Dice il saggio. A pranzo, una bella risata, è la migliore portata. Il bel paese. Le vie cave sono antichissimi e affascinanti percorsi etruschi a cielo aperto in Maremma, tra Pitigliano, Sovana e Sorano. Si tratta di una sorta di giganteschi corridoi ricavati scavando la roccia tufacea. In tutto sono alcune decine e hanno dimensioni variabili, larghe tra i 2 e i 4 metri, con pareti alte fino a 30 metri e lunghe fino ad un chilometro. Camminare lungo questi sentieri regala grandi suggestioni e si ha l'impressione di attraversare un mondo fiabesco. La funzione originaria delle vie cave è sconosciuta. Forse si trattava di percorsi sacri come sembrano testimoniare i simboli e le iscrizioni di epoca etrusca incisi nel tufo.